Questa buona, anche se era scontata, ho detto a New York e lo ripeto che io non ho paura dei poteri forti, visto che questo dibattito si è aperto sui media i giorni scorsi e che trovo che in Italia perché i poteri forti ci siano pensieri deboli. Ci fossero poteri forti in grado di aiutare il nostro paese a cambiare. Nel caso di stese il dottor Marchionne è l'amministratore delegato di una grande azienda, di un'azienda storica per il nostro paese, un'azienda che per tanti anni ha rappresentato l'Italia più di qualsiasi altra cosa. Io dico bene e nel male perché comunque ciascuno di noi può avere le proprie idee sul passato del rapporto tra Fiat e politica.